Rigore a favore del Valle Aventino, sul dischetto c'è il numero 9, in porta c'è Matteo, è parata! Niente, sulla ribattuta del portiere ha realizzato il numero 9, 7 a 1 e c'è il cambio della panchina della Valle Aventino. Bravo Matteo! L'altra ribattuta ci dobbiamo andare noi, capite Geroli?